lo so poi michele una volta stiamo accorto una volta che si vuoto e quando hai toccato il ritorno di lei Gigi basta siamo passati sono più veloce ma passate che questa volta ti rilascia mi rilascia mi rilascia da me è passata io mi sa che devi andare in scuola eh io fa vai vai tutto questo vai quella è Sarebbe il licensore da solo, no? Ando io lì, dimmi cosa devo fare io Non farei colpito!